Si lavora per essere poveri, un salario su 4 è sotto la soglia di povertà e oltre il 50% dei lavoratori è precario o part-time. La fotografia, drammatica, dell'occupazione nelle marche scattata dai dati della CGL Marche forniti dall'Inps. Un'analisi tutt'altro che rassicurante di come si è cambiato il mercato del lavoro negli ultimi dieci anni, dal 2008 al 2018, e il sistema delle retribuzioni. Quest'ultime, medie, lord e annue, nella nostra regione sono pari a 19.123 euro e sono significativamente inferiori sia al valore medio delle regioni del centro che a quello medio nazionale. Nel 2018, 429.000 occupati erano rappresentati da lavoratori dipendenti privati, un numero che continua a crescere, mentre 147.000 lavoratori, ovvero più di uno su tre, hanno un rapporto di lavoro part-time. Negli ultimi dieci anni lo scenario è cambiato profondamente, in particolare nell'industria manifatturiera si sono persi 33.000 lavoratori dipendenti, contrazione anche nel calzaturiero abbigliamento, nella meccanica, nel mobile, nell'edilizia, nel chimico farmaceutico, nell'industria agroalimentare e nei trasporti. Sono date che evidenziano un forte peggioramento delle condizioni di lavoro e di reddito dei lavoratori nelle marche. C'è il lavoro stabile, strutturato, che è sempre più eroso dal lavoro povero, dal lavoro destrutturato, dal lavoro precario e soprattutto da tantissimo part-time. Quindi c'è un'involuzione in qualche modo del lavoro che determina un peggioramento delle condizioni di vita e di lavoro e di reddito delle persone. Questo genera frustrazione, rabbia, paura e delusione in tante persone. Se meno di un lavoratore su due in questa regione ha un contratto a tempo pieno e indeterminato, quindi meno di uno su due, significa che il processo di destrutturazione e di impoverimento del lavoro è ormai estremamente avanzato. Più di un terzo dei lavoratori marchigiani di fatto sono precari, quindi significa che stiamo parlando dei lavoratori, degli appalti, dei somministrati, degli intermittenti, di tutti quei lavoratori che non superano i 10.000 euro di reddito annuale, quindi sono praticamente sotto la foglia della povertà.